Come andate? Ma questo è tutto... Sì? Ma veramente? Ma tu la dite alla ragazza che c'è la macchina fotografica che è andata. Ilaria, com'era su? Vai su a fargli le foto. Sono già state, mi è già state. Hai paura? L'ho registrata io, eh? Ma la sua scuola? Sì? Sì. Noi vedete, eh? No. Ah?